Salve a tutti, bentornati su BioBlu per una nuova pagina di informazione indipendente. Abbiamo oggi il piacere di ospitare nuovamente Franco Fracassi che ha appena scritto un nuovo libro che si chiama I Misteri di Wuhan. Bentornato Franco, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. La prima riflessione è questa. L'anno scorso, nel febbraio del 2020, esplode questa pandemia che in poche settimane coinvolge praticamente tutto il mondo. Questa pandemia era nata nella città di Wuhan, nella Cina orientale, dove, guarda caso, risiedeva anche un famoso laboratorio biologico dove si facevano esperimenti, era noto proprio sui virus, su innesti biologici, genomici e insomma si creavano anche dei virus dal nulla, dei virus chimera. Ci si sarebbe aspettati che tutte le redazioni più importanti del mondo avessero sguinzagliato i propri migliori giornalisti, i propri reporter per raccontarci insomma che cosa accadeva in quel laboratorio e se poteva esserci una relazione fra questa pandemia e quel laboratorio di Wuhan. Invece ciò non accadde. Si diede subito per scontato che l'origine del virus era naturale, che forse era venuto da un pipistrello, forse si era diffuso nel mercato di Wuhan e non abbiamo riscontrato insomma delle inchieste, delle indagini particolari su questo laboratorio. Tutto questo lavoro è venuto da giornalisti indipendenti come te, insieme ad una coautrice, Federica Ipsero Passione, avete scritto un libro che si chiama I misteri di Wuhan. Ecco, da cosa tratta questo libro? Credo che sia superfluo chiedertelo, però insomma, introducici un po' l'argomento Franco per favore. Allora, intanto salvo a tutti, hai detto bene, i media, i media mainstream hanno tutti raccontato la stessa vicenda, tutti hanno raccontato del passaggio dal pipistrello eccetera attraverso il mercato. Premesso oggi è ufficiale, il mercato non c'entra nulla, nulla è passata attraverso quel mercato, non ha nulla a che vedere con la diffusione della pandemia. La cosa, diciamo, questa è potuta accadere perché c'è stata la più riuscita guerra preventiva della storia, secondo me. Prima ancora che il SARS-CoV-2 diventasse qualcosa di universale, cioè la pandemia che noi oggi conosciamo, quindi quando si sapeva ancora poco del virus, uscì una lettera sul Lancet, che è una delle più prestigiosi riviste scientifiche del mondo, da parte di 27 scienziati molto importanti, che sostanzialmente diceva, il virus si è diffuso in questo modo, ovviamente la teoria ufficiale del passaggio attraverso il mercato, chiunque la pensa in maniera differente è un complottista, quindi non dovete ascoltarlo, che già di per sé, questa cosa stolce il naso a tantissimi scienziati, perché già di per sé è una cosa antiscientifica, perché nella scienza si discute, c'è la tesi, c'è l'antitesi, insomma si cerca di, è difficile che ci sia un solo punto di vista, soprattutto quando una cosa si sta iniziando a studiarla. Secondo, perché all'epoca non si aveva quasi un fico secco di quello che poi sarebbe stato il virus, si aveva idea di qual era il ceppo e quale poteva, quali danni poteva fare, ma non si sapeva nello specifico il tipo di virus e come si era trasmesso, non sapeva nulla ancora di questo. E quindi è una sorta di escusazione rompedita, cioè prima ancora di sapere qualche cosa già metti le mani avanti, e questo diciamo puzzava un pochettino, però essendo ben senti scienziati importantissimi, tutti gli hanno da Toretta. Terzo, l'uomo che è stato promotore di questa lettera è colui che finanziava gli esperimenti a Wuhan, quindi c'è un conflitto di interessi gigantesco su questa cosa. Quarto, un gruppo di giornalisti scientifici indipendenti, una sorta di collettivo indipendente, ha chiesto a Lancet la trasparenza, perché nelle pubblicazioni scientifiche deve essere massima trasparenza, secondo degli aspetti, cioè devi citare tutte le fonti e tutto quanto. E ha chiesto a Lancet le email che sono scambiati i vari scienziati per produrre poi quell'articolo. Lancet è stata costretta a mostrarle queste email e dell'email emerge, è quasi surreale quello che c'è scritto nell'email, nel senso che nell'email nessuno di questi scienziati sapeva nulla, c'è questo Peter Daszak che è lo scienziato promotore di questa lettera che scrive... La prima firma della... Sì, poi non è prima firma perché lui dice io non devo apparire perché sennò sembra che io ho degli interessi a fare la cosa, però suggerisce bisogna fare questa cosa, quelli dicono sì ma noi ne sappiamo nulla, insomma scrivono questa lettera e alcuni scienziati, uno in particolare dice per favore però non va bene perché non c'è una sola prova, non c'è uno straccio di prova, metteteci qualche cosa perché sennò sembra proprio una cosa una pecionata, non sembra una cosa seria questa lettera, per dare l'idea di su che cosa si è fondata la teoria della diffusione attraverso il mercato in questo anno e mezzo, mentre invece se si vanno a vedere i fatti la storia è da tutt'altra parte ed è una storia totalmente diversa. Questa storia quindi forse va ricercata proprio tra le pareti di questo laboratorio, il laboratorio di Wuhan che tra l'altro sappiamo che sì è un laboratorio cinese ma in realtà assorbiva fondi transnazionali, c'erano i francesi, c'erano gli americani, insomma che che cosa intanto insomma che cosa rappresenta questo laboratorio di Wuhan, da chi era stato costruito? Allora il laboratorio di Wuhan rappresenta purtroppo aggiungo io quello che sembra essere il futuro della ricerca sui virus nel mondo, perché purtroppo? perché proprio sbagliato, cioè ci sono non so quanti scienziati molto importanti che stanno facendo una guerra forzennata a quel tipo di laboratorio, a quel tipo di ricerca da molti anni perché è pericolosissima e ha provocato quello che ha provocato. Allora il laboratorio di Wuhan è stato, è un laboratorio costruito dai francesi su input dei francesi, è già di per sé una cosa stranissima perché in Cina sappiamo quanto la Cina sia impermeabile al resto del mondo dopodiché quando è stato costruito e i francesi dovevano entrare con i loro scienziati a quel punto gli americani li hanno scalzati allora premesso è un laboratorio militare, cioè un laboratorio in parte civile e in parte militare quindi già di per sé è stranissimo, ci sono degli scienziati americani che lavorano in quel laboratorio secondo, le ricerche su questi virus sono ricerche finanziate dagli Stati Uniti d'America nemmeno da degli americani privati, dal governo degli Stati Uniti d'America quindi cosa fuori, una cosa che già comincia a non aver senso, andare sul surreale cioè il governo degli Stati Uniti d'America ha deciso di finanziare delle ricerche molto importanti perché la SARS, quasi tutti i grandi laboratori di ricerca studiano la SARS da molto tempo in più fare queste ricerche molto pericolose in quel laboratorio e farle in un laboratorio militare aggiungo un'altra cosa, chi hanno mandato gli americani come scienziati? molti di questi scienziati sono scienziati militari cioè sono scienziati che lavorano in laboratori militari degli Stati Uniti che sono andati a lavorare in un laboratorio militare cinese quindi c'è il sospetto che si parli qui di armi batteriologiche esattamente esattamente e se posso aggiungere una cosa nel 2010 esce un documento del governo australiano in qualche modo anche l'Australia ha a che fare con il laboratorio Wuhan esce un documento del governo australiano che dice le armi batteriologiche diciamo la ricerca sulle armi batteriologiche in questo momento le armi biologiche ha fatto emergere che la miglior arma di classe A l'arma biologica è l'arma alla SARS e tutte le principali forze armate che stanno studiando nuove armi biologiche stanno studiando armi alla SARS già di per sé, già questo dovrebbe diciamo essere l'apertura di ogni giornale telegiornale da un anno a questa parte primo perché le armi biologiche sono armi di istruzione di massa vietate al 1925 della Convenzione di Ginevra quindi è già assurdo che ci siano qualcuno che abbia delle armi biologiche in generale secondo è assurdo che qualcuno stia facendo ricerche oggi nel 2021 96 anni dopo sulle armi biologiche terzo ma armi alla SARS e noi abbiamo un'epidemia di SARS perché questo è il SARS-CoV-2 un'epidemia di SARS e poi non so se ti ricordi Franco che appunto mi sembra nell'aprile o maggio dell'anno scorso a un certo punto si così ridiffu divenne virale quel breve servizio di Leonardo che è la sezione scientifica del Tg3 in cui si parlava proprio del fatto che nei laboratori di Wuhan si stessero facendo delle ricerche su un'armia biologica legata alla SARS a un coronavirus e questo video divenne virale io lo vidi ovunque subito dopo anche lì intervennero diciamo le autorità della scienza per dire no ma non c'entra niente non c'è nessuna relazione ma invece no invece quel video ha molto a che fare perché quel video parla di un ceppo della SARS che all'epoca di cui all'epoca nessuno sapeva nulla che invece a quanto pare è esattamente più o meno il SARS-CoV-2 che sta circolando nel mondo da un anno a questa parte in sostanza in quel laboratorio stavano lavorando su alcuni ceppi di SARS nove in particolare di cui otto non si sa ancora di che cosa li tratti perché sono tenuti segreti e nemmeno l'OMS è riuscito a farsi dire che ceppi sono però a quanto pare sono ancora più simili al nostro Covid e uno di questi potrebbe essere il nostro Covid stavano lavorando a questi nove ceppi di SARS e li stavano modificando perché sono pericolosi questi esperimenti che facevano perché si chiamano guadagni di funzione e sono sostanzialmente prendere un virus e modificarlo rendendolo la peggior versione di se stessa e creando dei virus chimera ecco loro stanno facendo i virus chimera su questi ceppi di SARS e uno dei più forti sospetti perché al momento non ci sono prove il problema è che proprio perché non si può indagare prove ufficiali cioè la pistola fumante non esiste esistono indizi prove indiziarie che però quando ce n'è una, due, tre, quattro, cinque, sei cominciano a diventare tantissime diciamo è un po' difficile non credere che tutte insieme facciano molto di più della pistola fumante ecco quello che sta emergendo è che loro da moltissimi anni da moltissimi anni prima in altri laboratori poi nel laboratorio di Wuhan stavano creando questi virus chimera e che hanno trattato questi virus chimera per fargli fare per permettere alla SARS di contagiare l'uomo questo l'hanno pure scritto cioè noi vogliamo che la SARS arrivi non solo a contagiare l'uomo ma si diffonda da uomo a uomo queste sono le famose armi biologiche loro lo dicono non parlando di armi biologiche dicono perché dobbiamo capire come fa questo virus a poter contagiare eventualmente da uomo a uomo così creiamo il vaccino per impedire questa cosa perché questi esperimenti hanno due scopi questi esperimenti guadagnano in funzione due scopi non ce n'hanno altri creare vaccini e creare armi che è più o meno la stessa cosa quando c'è un'arma di avere un vaccino quindi hanno questi due scopi e loro hanno creato un virus che era in grado di contagiare un essere umano con un altro essere umano che è la cosa più difficile di tutte e per fare questo ci vogliono hanno spiegato gli scienziati circa 2000 mutazioni dal virus originale cioè quello del famoso virus del pipistrelle da lì al virus che c'è più noi ci sono 2000 mutazioni che di solito avvengono in una normale catena biologica in tantissimo tempo in molti anni molte decine di anni invece da noi è avvenuto nel giro di pochissimi mesi e un'accelerazione del genere si riesce a fare solo passando attraverso un laboratorio forzando le mutazioni perché è l'uomo che muta direttamente le cose d'altra parte ci fu anche una famosa dichiarazione del premio Nobel Montagnier che anche in quel caso venne poi demolito come se fosse un matto uno che passava di là insomma un blogger diciamo dell'ultima dell'ultima ora insomma mentre invece ecco anche lì si vede un po' penso di poter dire la mala fede no? una certa informazione però prima di passare a quello che abbiamo visto dopo insomma dopo Montagnier poi si è scoperto anche di questi giochi militari che c'erano stati a Wuhan ti chiedo di pazientare per una trentina di secondi vediamo uno spot che suggerisco agli spettatori di guardare con attenzione e poi torniamo in studio con Franco Fragassi questo è un libro scomodo perché racconta una storia di libertà forse dell'unica libertà possibile quella di essere se stessi una libertà che richiede molto coraggio del resto solo l'uomo che riesce a conquistare se stesso può compiere la rivoluzione La ragazza con la rotella in più di Nandra Schilliro il primo romanzo edito da Bioblu ordinalo online su go.bioblu.com slash la ragazza o nella libreria più vicina a te su go.bioblu.com slash librerie Salve a tutti siamo di nuovo in studio con Franco Fragassi e stiamo discutendo ci sta raccontando la sua indagine sul laboratorio di Wuhan su cui è appena uscito un nuovo libro ecco io ho avuto modo di leggere degli stralci del tuo libro che non è ancora stato pubblicato lo sarà a breve e uno dei fatti che tu racconti e che individui insomma come un elemento chiave di questa storia è un incidente che avvenne però nel laboratorio di Wuhan nell'autunno del 2019 che precedette di poco i famosi giochi militari che si tennero proprio a Wuhan appunto sempre nell'autunno del 2019 ecco perché è così importante sono così importanti questi due eventi Franco intanto che cosa furono effettivamente secondo le tue ricerche allora il laboratorio di Wuhan è un laboratorio di massima sicurezza biologica uno pensa è sicuro no massima sicurezza vuol dire vengono usate una serie di accorgimenti di procedure di sicurezza che sono esattamente le stesse procedure di sicurezza e vengono utilizzate negli Stati Uniti in un laboratorio militare che si chiama Fort Detrick che è il più importante laboratorio militare del mondo dove si fanno armi biologiche armi biologiche in Stati Uniti e armi biologiche in Cina sono gli stessi scienziati perché poi si scambiavano le cose è veramente assurdo siamo di Cina e Stati Uniti si scambiano le informazioni si scambiano fisicamente virus da un laboratorio all'altro e anche gli scienziati quindi stessi scienziati stessi sistemi di sicurezza a luglio del 2019 nel luglio del 2019 il laboratorio di Fort Detrick viene chiuso viene chiuso per sicurezza nazionale non si spiega mai perché contemporaneamente nel G diciamo da qualche giorno prima si incomincia a diffondere nell'area intorno a Fort Detrick una polmonite atipica che nessuno era in grado di comprendere che ha provocato quasi 10.000 morti tre mesi dopo a Wuhan stesso sistema di sicurezza stessi scienziati stessi tipi di esperimenti sugli stessi virus improvvisamente il laboratorio viene chiuso non viene data nessuna giustificazione siamo in Cina quindi è più facile non dare giustificazioni vengono addirittura fatti posti di blocco intorno al laboratorio nessuno mette più piedi dentro a quel laboratorio qualche giorno dopo iniziano a Wuhan i giochi mondiali militari arrivano a Wuhan circa 10.000 atleti di 109 paesi differenti stiamo parlando di uomini e donne dai 18 ai 30 anni che sono nel pieno del loro fisico saranno dei fisici perfetti non si ammalano mai questi arrivano e cos'è che raccontano? raccontano a che il villaggio olimpico era pieno di persone che sembravano dei palombari tutti vestiti di bianco con scafandri eccetera eccetera che giravano per il villaggio a spruzzare cose e a pulire dappertutto in continuazione quello che noi chiamiamo oggi sanificazione quindi che non è normale non si è mai visto in nessun villaggio olimpico della storia dove c'erano delle persone che erano chiaramente protette da un virus che sanificavano in continuazione gli prendevano la temperatura ai militari prima che questi agli atleti prima che entrassero negli stati per partecipare ai giochi e poi raccontano questi militari che a uno a uno si iniziano ad ammalare tutti di che cosa? polmonite febbre alta nausea tosse spossatezza eccetera eccetera esattamente i sintomi del covid non uno si è ammalato si sono ammalati a centinaia a migliaia e chiaramente col senno di poi quello è stato all'origine il diciamo il punto zero il ground zero della diffusione della pandemia allora questo episodio qui è fondamentale ed è assurdo che non si parli di questo perché perché è importante capire come è iniziata la pandemia primo perché si può cercare di comprendere primo perché è importante capire ci sono stati 3 milioni di morti che come è iniziato tutto questo secondo perché trattasi nemmeno di strage di quasi un'epurazione etnica c'è stata quindi qualcuno andrà pure processato per crimini contro umanità perché di questo si tratta terzo perché per fare in modo che una cosa del genere non accada più perché ci sono altissimi rischi non andando a indagare senza indagare non si scoprono una serie di cose molto importanti almeno dal punto di vista ufficiale che tutto questo si possa ripetere magari tra qualche mese o tra qualche anno infatti guarda io adesso parlandone proprio amichevolmente ho sentito da parte di amici anche sensibili socialmente impegnati magari nel passato insomma dire però tanto che importanza ha qual è l'origine del virus io trovo francamente sconcertante una posizione del genere soprattutto appunto se c'è una ricerca militare se c'è uno scopo militare dietro questo virus sarebbe veramente indispensabile saperlo prima di tutto per come dici tu processare chi lo ha generato e poi per insomma creare delle moratorie insomma un'azione politica mondiale che veramente insomma ponga fine a certi tipi di esperimenti però effettivamente mi pare che insomma questo obiettivo non mi sembra di vederlo nell'ambito delle classi politiche globali una figura di cui si è spesso parlato a proposito del laboratorio di Wuhan è quella di Anthony Fauci il precedente cioè l'attuale così consulente del presidente Joe Biden per quanto riguarda appunto la gestione della pandemia ma anche di Donald Trump con cui però insomma non sembrava che ci fosse un rapporto proprio idilliaco tra Fauci e Trump insomma no allora Fauci è il sarebbe l'equivalente del nostro direttore dell'istituto superiore di sanità più o meno sarebbe la stessa cosa e occupa quella posizione dal 1985 e nessun presidente tutti i presidenti avevano provato a cacciarlo e nessuno ci è riuscito è un personaggio potentissimo allora cosa fa Fauci molto legato scusami tra parentesi anche al filantropo Bill Gates sì però non è tanto quello il punto il punto è che Fauci decide un'azione come appunto direttore dell'istituto centrale di sanità americano e questa azione è perfettamente coordinata con un invece diktat presidenziale cioè l'amministrazione Trump all'epoca nel 2017 l'amministrazione Trump decide una cosa che secondo me è l'inizio della fine cosa decide decide che gli Stati Uniti di America devono impiegare tutte le risorse possibili immaginabili per dare la caccia per elaborare la SARS per sapere tutto sui virus della SARS e per riuscire ad avere in funzione antiterroristica o cose di questo genere riuscire ad avere le armi biologiche sulla SARS e il vaccino conseguente cosa è che fanno gli Stati Uniti costruiscono mettono su oltre 200 laboratori uguali a quello di Wuhan in giro per il mondo ne fanno oltre 200 tutti militari quindi non si sa quello che facciano là dentro tutti collegati tra di loro in paesi sia in paesi la maggior parte in paesi del terzo mondo ma li fanno anche negli Stati Uniti stessi o in in Canada per esempio si è parlato per esempio di un uscì all'inizio della pandemia la storia di alcuni virus spediti dal Canada a Wuhan in un contenitore che potevano essere l'innesto la cosa no era normale perché questi laboratori si spediscono normalmente virus tra di loro di questi oltre 200 laboratori ce ne sono per esempio ben 16 in territorio ucraino per dire quanto poi gli Stati Uniti contano in Ucraina e che cosa è l'Ucraina ben 16 costruiti in territorio ucraino tutti al confine con la Russia e c'è stata nel 2018 una epidemia di uno stranissimo virus che assomigliava molto a uno stranissimo polmonitico sono morte molte centinaia di persone proprio nei villaggi nelle città che stanno al confine tra Russia e Ucraina nel territorio circostante uno di questi laboratori ne hanno costruiti in Georgia in Azerbaijan sempre al confine con la Russia ne hanno fatti in Kazakistan ne hanno fatti in Uzbekistan ne hanno circondato la Russia di questi laboratori e li fanno in paesi anche dove notoriamente non c'è esattamente una grande cultura scientifica anche o di sicurezza biologica hanno costruito ovunque questi laboratori con con funzione esclusivamente militare non c'è un'altra funzione perché non c'è in questi laboratori non c'è un investimento pubblico scusate privato sono tutti investimenti pubblici però il fatto che questi laboratori in cui ci sono tutti investimenti pubblici oltre che il pubblico a usufruire il pubblico poi sarebbe il pentagono a usufruire di queste ricerche sono alcune aziende farmaceutiche una di queste è per esempio la Johnson & Johnson che ha prodotto il vaccino monodose tutto diverso dagli altri perché perché è una di quelle aziende che ha potuto usufruire di una ricerca che va avanti da molti anni su quei virus lì pagata dal pentagono e dal dipartimento di stato alla CIA quelli che lavorano in questi laboratori sono tutta gente che lavora per il pentagono e per la CIA è la cosa assurda che sia potuto avvenire in territorio cinese questa è una cosa del tutto assurda almeno per me è assurdo nel senso che la Cina si sia prestata a questo l'unica cosa che mi viene da che dà un senso alla cosa è se si va a vedere sotto la patina di guerra tra Cina e Stati Uniti dal punto di vista commerciale e così via si scopre che da una parte la Cina fa enormi investimenti negli Stati Uniti dall'altra gli Stati Uniti dal punto di vista privato cioè con le sue società finanziarie che fanno enormi investimenti in Cina quindi come se si stessero legando in una sorta di matrimonio segreto questi due paesi e c'è un enorme scambio di scienziati è pieno di scienziati cinesi che vanno negli Stati Uniti e ci sono delle facoltà tipo la Columbia University che è una delle facoltà peraltro più impegnate in tutto questo programma gigantesco del governo americano in giro per il mondo la Columbia University ha ben 1500 studenti cinesi nelle facoltà scientifiche specialmente le facoltà biomediche cioè come se ci fosse una sorta avessero fatto un patto segreto da qualche parte o che so io per per schiantare il resto del mondo adesso l'ho messa lì grande diciamo diventare un due finte potenze nemiche che poi possano approfittare e sottomettere il resto del pianeta non vorrei arrivare a tanto però è una delle domande che mi sono posto certo in effetti ecco io spero che questa intervista più che altro serva a suscitare delle domande perché mi sembra che nell'ambito soprattutto l'informazione ufficiale se ne siano fatte troppo poche su questo argomento poi nel tuo libro naturalmente ci sarà il dettaglio delle fonti di quello che ci hai raccontato insomma oggi ci hai dato una panoramica generale quindi ti ringrazio ancora posso solo dire come si fa a prendere il libro? certo scusami se non mi trovo perché no lo dico insomma a beneficio di chi ci ascolta perché non lo potete comprare in libreria solo per questo non è che potete uscire andare su Amazon e trovare il libro l'unico modo per averlo per chi fosse interessato è scrivermi un'email personale a francofragassi1 a numero chioccia gmail.com francofragassi1 chioccia gmail.com se non mi scrivete un'email il libro non lo avrete molto semplicemente però arriverà anche con una arriverà con la dedica cioè i libri acquistati ovviamente verranno tutti quanti spediti a casa con dedica sia a voi che a amici se volete fare un regalo o cose di questo genere tutti quanti con la dedica penso che avrai molto da scrivere nelle prossime settimane spero grazie ancora franco grazie agli spettatori che hanno seguito questa intervista ci rivediamo al più presto su bio blu arrivederci